In un'artistica di Giuliano Peparini muoviamo più di 100 persone. Da Renato Zero a Giorgia, da Eros Ramazzotti a Pierfrancesco Favino, solo alcuni dei tantissimi ospiti. Baglioni ha fatto molta televisione, per due volte direttore artistico del Festival di Sanremo, ma Wah è qualcosa di diverso, incentrato su di lui, sull'improvvisazione, sull'imprevedibile.